Il segreto. Puntata mercoledì 23 agosto 2017. La resa dei conti. Anticipazioni. Dopo aver parlato con Rogelia, Hernando capisce che potrebbe perdere per sempre Camila, a causa di Nestor. L'uomo, nel frattempo, costringe la Val d'Esalce a tornare a Cuba con lui per cercare la piccola Belén. Hernando riesce però a bloccarli per strada. Francisca ed Emilia si confrontano riguardo a Cristobal. Durante un furioso litigio con Carmelo, Candela sviene, e Severo la soccorre immediatamente. Nestor ed Hernando hanno uno scontro violento sotto gli occhi di Camila. Prima parte. La resa dei conti. Dopo aver parlato con Rogelia, Hernando capisce che potrebbe perdere per sempre Camila a causa di Nestor. L'uomo, nel frattempo, ha costretto la Val d'Esalce a partire con lui per Cuba, in modo da cercare la piccola Belén. Hernando, però, comprende cose accadute e riesce a bloccarli per strada. Le trame del segreto raccontano a questo punto che fra i due rivali avviene un violento scontro fisico sotto lo sguardo atterrito di Camila. Ormai è chiaro che uno dei due è di troppo. Cosa deciderà di fare la Val d'Esalce per risolvere questa situazione? Seconda parte. Preoccupazioni e paure. Nel frattempo, Francisca ed Emilia hanno un confronto in cui parlano di Cristobal. L'uomo sta diventando una vera e propria minaccia non solo per loro ma per l'intero paesino spagnolo, a causa dei suoi piani. Le due donne saranno sempre più terrorizzate dal comportamento dell'uomo, anche se probabilmente, alla luce di quanto scoperto da Francisca, egli non potrà usare violenza ad Emilia che, però, ancora non lo sa. Reimundo, intanto, rivela alla fine le sue intenzioni circa l'intendente. Ultima parte. Candela sta male. Candela ha appena scoperto che Carmelo ha ucciso un uomo, e discute con lui in maniera furibonda. Dopo l'aspra discussione, la donna avverte un malore e sviene. Severo la soccorre immediatamente, e nella puntata in questione vedrete che egli capisce subito la causa di ciò che è successo, sia pur involontariamente, è proprio Carmelo a determinare il mancamento della povera Mendizabal, che porta avanti la gravidanza con grande difficoltà. Che cosa farà dunque negli a questo punto?